Per cominciare, apri la tua applicazione Instagram. Ora sei sulla tua home page e quello che farai è semplicemente toccare un profilo specifico in cui desideri nascondere i suoi commenti. Quindi ora sei nella pagina del profilo di quella persona. Basta toccare i tre punti in alto a destra. E poi tocca an'applica Restrizioni. Poi apparirà questo. Fondamentalmente significa che se pubblichi un post e loro lo commentano, solo tu e loro vedrete il commento e nessun altro lo vedrà. Quindi puoi semplicemente toccare l'ignora. E basta. Grazie per aver guardato. Grazie per aver guardato.